business ma te lo comprati io ce ne ho comprati 10 a 1 euro perché ti devo dare 2 euro per il gavettone oggi ma bronzo un botto questi specchietti tanto anni 80 quando si mettevano che ne sai prima si mettevano lo specchio qui per prendere il sole un'altra cosa che mi urta il sistema nervoso e quando si va a fare due palle così un'altra cosa che mi urta il sistema nervoso e lui lo fa costantemente è quando tu stai facendo 300 mila cose e ti chiede tipo che ne so una gomma e rimane con la mano così per un'ora cioè io dico aspetta no oppure tu gli chiedi un oggetto e stai facendo altre 300 cose e rimane lì così c'è di compoggialo cristo no è gli acquisti di sasi voleva queste che sono come le nostre squalo ricordate le nostre squalo a cuore non piace questo elemento invece sono bella sembra un lingotto a cuore non è